Hanno tra i 13 e i 14 anni le vittime di presunte molestie sessuali subite per circa un anno da un 49enne del sud Salento Leccese, residente nell'Interland di Casarano. Ragazzini e ragazzine che l'uomo avrebbe intercettato a bordo del bus con il quale, nei panni di conducente, li accompagnava a scuola. Per lui nelle scorse ore sono scattati i domiciliari, al margine delle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dal sostituto procuratore Luigi Mastroniani. L'ordinanza di custodia cautelare a firma della GIP Laura Liguori ha raggiunto l'imputato nelle scorse ore. Tutto avrebbe avuto inizio da una chiacchiera di paese che nei mesi scorsi si è fatta via via più insistente. A quel punto il comandante della locale stazione ha voluto vederci chiaro e in primavera, dopo le prime risultanze investigative, è scattato il sequestro dei dispositivi elettronici di proprietà dell'uomo. Le foto di minori e le chat che sarebbero state trovate al loro interno avrebbero avallato il quadro accusatorio. Sarebbero più di dieci i casi di molestie emersi. Il 49enne avrebbe intercettato i minorenni di sesso maschile e femminile indistintamente a bordo del bus che conduceva per accompagnarli a scuola. Una volta instaurato un rapporto confidenziale, con loro avrebbe intrattenuto chat, chiesto foto e incontri, li avrebbe molestati fisicamente, chiedendo loro carezze in zone intime. Con qualcuno, sempre stando all'accusa, avrebbe intrattenuto rapporti sessuali veri e propri. Dalle accuse, l'uomo avrà la possibilità di difendersi in sede di convalida dell'arresto tramite il suo legale, l'avvocato Fabrizio Mangia.